La partita di oggi contro il Novara, anticipo della quarta giornata di Serie A, potrebbe vedere in campo Pazzini dal primo minuto. Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Giampiero Gasperini, che si è dichiarato ottimista sul recupero di Snyder, Stankovic e Kivu. Secondo il tecnico Nerazzurro, poi, gli ultimi risultati ottenuti dalla squadra sono in parte bugiardi perché non tengono conto di una serie di episodi dubbi. Non penso a niente di torbido, aggiunge Gasperini, ma solo ad una situazione poco fortunata. Nelle partite giocate finora non meritavamo così poco, ma su alcuni episodi è stato steso un velo pietoso. Nessuno li ha messi in evidenza, né ne ha tenuto conto nel giudizio su di noi. E Moratti lo sento spessissimo, conclude Gasperini. Il presidente mi dà una grande spinta a portare avanti le mie idee, a differenza di ciò che si può pensare. Di questo lo ringrazio moltissimo. L'allenatore del Novara, Tiglio Tesser, non si fida di un'Inter definita in crisi. Non esageriamo, dice l'allenatore dei Piemontesi. I Nerazzurri sono una grande squadra che finora ha raccolto molto meno di quello che meritava. Sappiamo chi avremo di fronte, ma non per questo ci arrendiamo prima ancora di combattere. Giocheremo al di là degli interpreti, come abbiamo sempre fatto, senza adattarci all'avversario. Credo, ha aggiunto Tesser, che abbiamo dimostrato di essere degni della categoria, ma per poter raggiungere il nostro obiettivo, la salvezza, dobbiamo avere più personalità, più sicurezza, più fiducia nei nostri mezzi. Finora abbiamo giocato i due primi tempi di Verona e Cagliari senza la necessaria velocità. Meglio il secondo tempo, ma se vogliamo fare bene non possiamo essere troppo contratti, poco dinamici e intensi. Credo però che abbiamo le qualità per competere, dobbiamo solo migliorare.